Io ringrazio davvero di cuore la dottoressa Governatori, l'OCI per questa occasione di confronto che ritengo davvero interessante anche perché frutto, mi sembra di poterlo dire, di curiosità intellettuale. Cioè la voglia di capire di più qualcosa e da parte mia la voglia di dare un piccolo contributo a questa comprensione, contributo che non può essere mai dato per scontato. Ecco, posso dire che da due giorni che sto rileggendo tutto quanto perché se qualcuno pensa di sapere tutto, bene, chiaramente viene smentito. Ringrazio anche le fondazioni che collaborano con noi da tanto tempo e con grande, a nostro avviso, grande profitto dell'Università e la Scuola Superiore di Magistratura. L'Università, devo dire, fa molto volentieri la sua parte nella quella che viene chiamata la terza missione, che ormai è una delle missioni dell'Università, oltre a quella della ricerca, della didattica, cioè appunto quella della condivisione delle conoscenze con il territorio, con gli operatori, che è esattamente quello che intendiamo fare. Allora, la mia relazione che sarà contenuta nei tempi che vi sono stati assegnati è divisa idealmente in quattro parti. Una premessa sul percorso della direttiva, poi l'oggetto specifico della direttiva, ormai direttiva in corso di definitiva approvazione e pubblicazione, poi un confronto, se vogliamo, un po' analitico e noioso con il codice della crisi dell'insolvenza e infine delle possibili conclusioni. Ecco, partirei appunto dal percorso. Il percorso che la direttiva ha fatto è un percorso che non può non farci notare come i primi tentativi, in realtà i primi passi dell'armonizzazione del diritto societario cominciarono circa 50 anni fa. Quindi, con una serie di direttive, fra la fine degli anni 60 e poi il massimo ha avuto luogo negli anni 70 e 80, l'Unione Europea, quella che oggi è l'Unione Europea, aveva spinto per l'armonizzazione del diritto societario con risultati, fra l'altro, molto importanti. E' abbastanza curioso che a oltre i 50 anni, da 60 anni dalla fondazione, quella che oggi è l'Unione Europea, ci troviamo qua a discutere la prima direttiva in materia di insolvenza, in materia genericamente, possiamo dire, della materia dell'insolvenza. E questa è la conclusione, questo che sta per aver luogo nel 19, è la conclusione di un percorso che è cominciato timidamente nel 2000, ai primi anni di questo secolo, quando la Comunità Europea approvò il Regolamento 1346 sul coordinamento delle procedure che non aveva effetti sostanziali, aveva un paio di norme sostanziali in materia di compensazione, l'evocatore dei pagamenti, ma il grosso di quel regolamento, oggi sostituito dal regolamento del 2015, è meramente procedurale, cioè in sostanza la filosofia era, quali che siano i vostri ordinamenti, gli effetti delle procedure vengono riconosciuti in tutta l'Unione Europea, ad eccezione dalla Limarca che aveva esercitato un'opzione nel 92. Questo coordinamento si ribaltò anche poi nell'aspetto bancario, nel mondo delle procedure bancarie, con una direttiva del 2001. Ecco, anche la crisi finanziaria, iniziata con il 2006-2008, ha mostrato che l'approccio del mero coordinamento delle procedure non basta più e di questo si è resi conto in modo drammatico con le crisi bancarie, tant'è vero che nel 2014, sappiamo, è stata approvata la direttiva in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, cioè delle banche, che ha poi portato a una serie di attuazioni che conosciamo sia in Italia sia a livello europeo. Ecco, la direttiva di cui stiamo discutendo è il primo passo di questa armonizzazione, anche a livello sostanziale, nel campo appunto del diritto generale, non solo del diritto bancario. È importante tener conto del fatto che la direttiva non mira a compiere nessuna armonizzazione delle procedure di insolvenza intese come le procedure oggi rappresentate dal fallimento e domani dalla liquidazione giudiziale. Su questo l'Unione Europea è stata ben consapevole dei propri limiti e è stata consapevole del fatto che entrare nel campo delle procedure di insolvenza significa entrare su un terreno che ha letteralmente centinaia di anni di stratificazioni per cui è sicuro il rigetto da parte dei stati membri, soprattutto in relazione a ordinamenti che hanno una alta, a torto a ragione, e un'alta stima dell'efficienza delle proprie legislazioni. Comeppure nessun intervento è stato fatto sulla gerarchia dei creditori. A livello dell'Unione Europea continuano a esservi significative differenze sul trattamento dei creditori, soprattutto in relazione all'attribuzione dei privilegi. L'attribuzione dei privilegi significativamente in relazione a due grandi pilastri della nostra gerarchia dei privilegi che sono il privilegio per i crediti tributari e previdenziali e i privilegi dei lavoratori. Su questo l'Unione Europea continua a avere un approccio secondo cui, quali che siano le procedure che verranno arbolizzate, l'attuazione dei diritti avviene secondo la tradizione. Si può immaginare, e questo è stato detto espressamente dalla Commissione, che da qui a cinque anni, che è il tempo che la Commissione si è data per la revisione dello strumento, si possa immaginare un intervento sia sulle procedure di insolvenza, ma non sarà un intervento abbastanza modesto, sia sulla gerarchia dei creditori. Il tema è stato approcciato, e qui concludo il punto, da un punto di vista laterale, che è il punto del trattamento dei non performing loans, le esposizioni deteriorate delle banche. Come sappiamo sono state all'origine, oltre di vari fenomeni in campo sociale, anche dell'iniziativa della direttiva europea in materia. Questo è espressamente previsto, che la genesi, la direttiva di cui oggi discutiamo, sia la crisi bancaria e soprattutto la crisi industriale, seguita dalla crisi finanziaria, che ha provocato l'accumulo delle esposizioni deteriorate, è spiegato plasticamente dalla genesi. Nel 2014 avemmo la raccomandazione, che era una raccomandazione ancora di carattere generale, su cosa gli stati membri dovevano, secondo la Commissione, auspicabilmente introdurre i rispettivi ordinamenti per trattare la crisi di impresa, ma poi le grandi spinte si sono avute nel 2015, con la comunicazione dei cinque presidenti, che è stato il momento di svolta delle istituzioni europee, e poi tutti gli atti che hanno attuato quella volontà politica di intervenire per la prima volta nel campo dell'insolvenza, volontà che è stata espressa poi nella comunicazione sulla Capital Market Union. Allora, a questo punto, il percorso è stato avviato nel 2016 con la predisposizione di un gruppo di esperti, poi nel novembre del 2016 la Commissione ha pubblicato la proposta, proposta che poi ha cominciato la sua faticosa navigazione nelle due istituzioni, che sono i co-legislatori, cioè quelli che devono approvare lo stesso testo affinché il testo diventi legge dell'Unione Europea, che sono il Consiglio dell'Unione Europea, fatto dai rappresentanti del Ministero della Giustizia, dei 28 stati membri, e il Parlamento Europeo, appunto, che c'è istituzione più familiare. Hanno approvato due testi abbastanza diversi, in quanto quello del Parlamento Europeo aveva una serie di incursioni sul campo sociale dei lavoratori, e quello invece del Consiglio del Ministro dell'Unione Europea, che è uscito a ottobre del 2018, aveva una serie di interventi invece molto più tecnici. E' stato poi trovato un compromesso politico nel dicembre del 2018, su un testo che è poi quello che stiamo leggendo, salve le rinumerazioni. Ciò detto, a questo punto occorre interrogarsi su quale sia l'oggetto della direttiva, che non è una questione che darei per scontato, che possiamo dare per conosciuto. La direttiva ha tre grandi pilastri. Il primo pilastro è quello dei cosiddetti quadri di ristrutturazione preventiva. L'articolo 1, che alle mie spalle mostra tutti e tre i pilastri, il quadro di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziaria e per il quale sussistra una proprietà di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e garantire la sostenibilità economica. Il secondo è il campo che noi definiamo genericamente quello dell'esdebitazione. Il terzo è quello invece delle misure per aumentare l'efficienza di tutte le procedure, non soltanto le procedure di ristrutturazione, ma anche le procedure di insolvenza attraverso strumenti su cui l'Unione Europea non ha potuto fare molto, che sono quelli della raccomandazione del training professionale, della specifica istruzione professionale sia dei professionisti sia dei giudici, con l'avvertenza che questa seconda parte è stata oggetto di un intervento abbastanza leggero in quanto è noto che gli stati membri sono particolarmente gelosi le loro prerogative in materia di ordinamento giudiziario. Oggi credo che parliamo del primo pilastro, il pilastro in materia di ristrutturazione preventiva. Anticipo che a mio avviso il secondo pilastro, quello dell'esdebitazione, vede una sostanziale conformità del codice della crisi rispetto alle norme in materia di... di non propria vista della direttiva, mentre questa conformità non possiamo darla per scontato per quanto riguarda i quadri di ristrutturazione preventiva. Allora, chiarito che l'oggetto del nostro colloquio, almeno della parte che espongo io, è il primo, è importante notare che l'area soggettiva della direttiva è quella delle difficoltà economiche dell'imprenditore. L'imprenditore che però è essenziale dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9, è definito come persona fisica che eserce un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Ecco, qui occorre essere chiari anche per evitare di perderci nella traduzione. Quindi la nozione di imprenditore non è la nozione dell'articolo 2082 e nemmeno la nozione di imprenditore commerciale è la stessa. In sostanza l'Unione Europea chiede agli Stati membri di adottare un quadro dell'istrutturazione preventiva che riguardi tutti coloro che svolgono attività economica, a prescindere dalla natura dell'attività commerciale o agricola e a prescindere dalla presenza o meno di un'organizzazione, che è quello che distingue l'imprenditore dal professionista autonomo e in particolare, fra l'altro, anche il professionista intellettuale. Quindi l'eventuale adeguamento della normativa è un adeguamento che dovrebbe intervenire non soltanto sul lato del codice della crisi che riguarda gli imprenditori commerciali, ma anche quel lato che genericamente è identificabile come quello del sovraindevitamento che è per esclusione, secondo il codice della crisi, quello che riguarda tutti coloro che non sono soggetti alle procedure, chiamiamole ordinarie, quindi non soltanto l'imprenditore agricolo, anche il libro professionista, anche l'imprenditore sottosoglio. Ai fini della direttiva non c'è differenza, il che non significa che gli stati membri debbano adottare la stessa disciplina. Se ne adottano due diverse, tuttavia, queste due discipline dovranno rispettare, in entrambi i casi, i parametri minimi che sono previsti dalla direttiva. L'area oggettiva, invece, è chiarita, appunto, l'abbiamo visto prima, dall'articolo 1 lettera A, quindi non tanto l'insolvenza, il trattamento dell'insolvenza, quanto piuttosto il trattamento delle difficoltà finanziarie dell'imprenditore, il quale abbia una probabilità di insolvenza, è tema aperto se possa già essere insolvente, a mio avviso sì, ma questo è un tema abbastanza ampio, si capisce da un paio di incisi, che abbia come obiettivo quello di garantire la sostenibilità economica dell'attività. Ne consegue che la finalità della direttiva è quella di consentire la ristrutturazione dei debiti in una fase anticipata della crisi, quando ciò sia conveniente per i creditori. Questo è un punto importante. In sostanza, e qui mi ricollego perfettamente, perlomeno ritengo di farlo da quello che diceva la dottoressa Broggi, l'obiettivo della direttiva non è garantire la continuità di per sé, garantire la continuità che abbia un valore da produrre, che abbia quindi una convenienza, e lo si capisce, a parte una serie di norme, dal fatto che la ristrutturazione deve essere attuata con il consenso dei creditori. Quindi nessuna ristrutturazione può essere adottata con il consenso dei creditori se i creditori non guadagnano dalla continuità dell'attività. Quindi la finalità è quella di consentire di intervenire con l'obiettivo di ripristinare la sostenibilità economica quando ancora non vi è una insolvenza. Ora, questo obiettivo a noi sembra abbastanza ovvio, cioè sembra abbastanza ovvio che sia necessario, come già fa il nostro ordinamento da tempo, consentire di affrontare le difficoltà prima che l'insolvenza si manifesti, ma questo non era scontato. Ordinamenti, potremmo dire, ordinamenti di grande tradizione, come quello tedesco, come quello austriaco e quello danese, per esempio, non conoscono procedure che consentano all'imprenditore, al debitore, che non sia già in condizioni di difficoltà economiche conclamate di intervenire sulla carne viva dei creditori, che è poi quello che consentono i quadri di strutturazione preventiva. In sostanza consentono di assoggettare la volontà dei creditori a un consenso di una maggioranza che per definizione non è l'unanimità. Questo non è possibile in stati in ordinamenti diversi in alcuni ordinamenti e, seppure con grande fatica, questi ordinamenti hanno deglutito il boccone del fatto che, come è stato detto, i contratti fra il debitore e i creditori possano essere violati, cioè ridefiniti, noi diremmo ridefiniti nell'ottica di un migliore interesse collettivo, ma dal punto di vista contrattuale possiamo senz'altro parlare di violazione, possano essere violati quando ancora non vi è l'insolvenza. In sostanza un principio fortissimo che è affermato a livello di tradizione germanica che è quello di pacta sun servanda, il pacta sun servanda dice che fino a che non c'è un inadempimento non si può immaginare di consentire al debitore di intervenire e quando c'è l'inadempimento non è il debitore, l'interlocutore corretto di questa fase. Questo è ciò che la direttiva ha voluto, dal punto di vista culturalmente molto importante, imporre anche a stati che questo non l'avevano. Non è il nostro caso, ma appunto di questo noi prendiamo atto. È importante individuare quale sia il concetto di ristrutturazione, concetto che è espresso dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1, che è quello relativo alle definizioni, che definisce la ristrutturazione, le misure che intendono ristrutturare le attività del debitore, che nel senso includendo la modifica delle composizioni, conduzione, struttura e delle passività, quindi la traduzione è un pochino complicata, e di qualsiasi altra parte della struttura del capitale, quali la vendita di attività o parti dell'impresa. Poi il numero 1 prosegue con un'importante aggiunta che non era presente nella proposta di direttiva, che è quella della possibilità di considerare ristrutturazione anche quella che noi definiamo continuità indiretta, cioè la cessione dell'impresa in regime di continuità aziendale, che è ormai parte integrante del quadro di strutturazione preventiva, ma che lo è se lo Stato esercita l'opzione appunto di includerla. Ciò detto, quindi, e chiarendo non solo la posizione della direttiva, ma anche la mia personale posizione, secondo cui ha senso parlare di continuità, ha senso tutelare la continuità, in quanto ci siano valori da conservare, passerei alla fase, possiamo dire, più noiosa, che è quella del confronto, un tentativo di confronto analitico fra direttiva e codice della crisi. Questo lo farei partendo anche, in questo caso, da una sorta di elencazione generale, più che da articoli specifici, che è qualcosa che poi tornerà utile nella parte conclusiva quando proverò a ipotizzare uno dei due modi di attuare la direttiva. La direttiva ha sostanzialmente un approccio modulare, cioè la direttiva, anche per garantire la possibilità che gli Stati membri la recepissero, ha dovuto lasciare non soltanto ampi spazi di discrezionalità agli Stati membri, ma ha sostanzialmente dovuto legiferare per fini, cioè ha previsto una serie di finalità che gli Stati membri devono conseguire, restando relativamente liberi, non direi del tutto liberi, relativamente liberi di conseguire con i mezzi che ritengono più congrui e più vicini alla loro tradizione, che appunto molto spesso è una tradizione degna di grandissimo rispetto. Quindi in questo quadro la direttiva ha un approccio secondo cui il debitore può chiedere, quello può chiedere e ha diritto di ottenere dallo Stato membro quello che è necessario secondo le circostanze, quindi quello che è necessario e adeguato secondo le circostanze. E allora definirei, non seguendo l'articolato, ma piuttosto seguendo un ordine logico, cinque livelli di intervento in ordine di forza. Il livello minimale, quello che il debitore ha diritto di ottenere senza sostanzialmente incidere sui diritti dei creditori è quello della tutela delle operazioni connesse alla ristrutturazione. Quindi quello che l'articolo 18 prevede come l'obiettivo della stabilità delle operazioni che hanno avuto luogo in esecuzione di un piano di ristrutturazione. Quindi l'articolo 18 prevede che le operazioni che sono state, sono ragionevolmente, ragionevolmente necessarie per le trattative, scusate, ho detto, sì, va bene, è il 18, sì. Come? Era giusto, sì, sì, infatti. Per le trattative e per l'esecuzione del piano di ristrutturazione che è il punto 5, fatto salvo l'articolo 17, gli stati membri provvedono affinché nel caso successiva insolvenza del debitore le operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione effettuate conformamente al piano non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili sulla base del rilevo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori a meno che non sussistano ulteriori ragioni. Quindi è il livello che noi definiremmo quello del 2005, il livello originario del piano di risanamento attestato e dell'accordo di ristrutturazione. Questo è il livello minimo, livello minimo sul quale mi sentirei di dire che sostanzialmente il codice della crisi è conforme, potrei fare un passaggio abbastanza lungo e forse un filo noioso, sull'articolo 166. L'articolo 166 sappiamo che prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria e abbastanza la traduzione letterale dell'attuale articolo 67, gli atti, i pagamenti effettuati, le garanzie, eccetera, in esecuzione del piano attestato e gli atti, i pagamenti, le garanzie, dei veni del debitore, posti in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione. Mi sentirei di dire che l'articolo 18,5 è attuato, è già attuato sostanzialmente dal codice della crisi. Il discorso diventa sostanzialmente nello stesso senso, la conclusione nello stesso senso, relativamente alla tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei che sono quelli previsti dall'articolo 17 della direttiva. L'articolo 17 prevede la tutela sia dei finanziamenti cosiddetti interinali, finanziamenti fatti in pendenza delle trattative per lo strumento, i finanziamenti che oggi definiremo urgenti dell'articolo 182,5, sia i finanziamenti in esecuzione dell'accordo, dell'operazione di ristrutturazione che è l'area oggi prevista dell'articolo 182,4. L'articolo 17 prevede che i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei siano adeguatamente tutelati e lo prevede in termini che riterrei abbastanza conformi appunto di nuovo all'articolo 166,3 lettera D. L'articolo 17,4 prevede come opzione per gli stati membri, attenzione, non soltanto la stabilità dell'atto e l'assenza di responsabilità del finanziatore, ma anche la possibilità di concedere ai finanziatori la preveduzione. Gli stati membri possono prevedere che i concessori di nuovi finanziamenti e nuovi finanziamenti temporanei abbiano diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale. È una definizione abbastanza vaga, non necessariamente vaga di preveduzione, che il nostro codice della crisi prevede all'articolo 99 per quanto riguarda i finanziamenti interinali e all'articolo 101 per i finanziamenti cosiddetti nuovi. Questo vale sia per l'accordo di ristrutturazione sia per il concordato preventivo. Il terzo livello di intervento a cui il debitore ha diritto, ricordo il primo è quello appunto della stabilità rispetto a ciò che è stato compiuto, il secondo è la tutela dei finanziamenti, quindi anche con la preveduzione, il terzo è quello del divieto di azioni esecutive individuali, quello che viene chiamato genericamente lo stay. Qui altri sono molto più qualificati di me anche e soprattutto su vari aspetti procedurali, ma quello che segnalo è un dubbio, un dubbio cioè se la direttiva prevede per la sua attuazione modalità che si esauriscono in un unico strumento oppure possono anche essere ripartite in più strumenti, provo ad essere più chiaro di come è stato cioè pochissimo. Se dati certi obiettivi, non è chiaro dalla direttiva o perlomeno è chiaro ma con dei requisiti se lo Stato, gli Stati membri possano adottare una sola procedura che li consegue tutti e cinque, quindi non solo questi tre che sto risponendo ma anche i prossimi due, oppure se possano prevedere pezzi dell'ordinamento che attuano diversi pezzi della direttiva. E segnatamente il dubbio che pongo è se dati certi obiettivi possono essere attuati in parte dal concorrato preventivo e in parte dall'accordo di strutturazione in questo senso devo dire che i dati che vengono dalla direttiva non sono univoci e non consentono di giungere a conclusioni attuali, a conclusioni assolutamente univoche e in questo senso, perdonatemi il volo su una parte molto diversa della direttiva, l'articolo 20, il considerando 29 che poi viene anche, trova una più precisa attuazione normativa nell'articolo 4, paragrafo 5, prevede che il quadro di ristrutturazione preventiva per promuovere l'efficienza e ridurre i quadri nazionali di ristrutturazione dovrebbero contemplare procedure flessibili. Attenti a questo perché questo è un punto su cui, come detto, non sono in grado di giungere alla conclusione ma vorrei lanciare a questa sede particolarmente qualificata la domanda. qualora la presente direttiva sia applicata attraverso più di una procedura dell'ambito di un quadro di ristrutturazione il debito dovrebbe avere accesso a tutti i diritti e le garanzie previste dalla presente direttiva al fine di conseguire una ristrutturazione efficace. Quindi direi che è risolto il dubbio se si possono attuare frammenti della direttiva con pezzi di strumenti diversi. Quello che ho il dubbio che invece il nostro codice non attui è la modularità. Cioè il passaggio dall'accordo di ristrutturazione al concordato che sono tipicamente non scopro niente i veicoli dell'attuazione della direttiva appena o meno allo Stato la vedremo lì la direttiva non sono modulari fra di loro è modulare l'inizio ma poi dopo il passaggio all'accordo di ristrutturazione al concordato può essere abbastanza traumatico. Ci devono essere dei raccordi che lo dico con grande umiltà autentica umiltà non sono sicuro di aver visto nel codice della crisi magari invece ci sono e non li ho saputi vedere. Quindi il tema del divieto di azioni esecutive individuali va calato in questa domanda. Si può pensare che tutto ciò che la legge vuole la direttiva vuole rispetto al divieto di azioni esecutive individuali si trovi coerentemente nel codice della crisi o quantomeno si trovi in uno dei due strumenti. A me sembra che a questa domanda non si possa dare una risposta automaticamente positiva e dico subito qual è il dubbio. Il dubbio è che il concordato prevede necessariamente la nomina di un commissario giudiziale che invece la legge la direttiva prevede che sia soltanto facoltativa. Quindi molti degli effetti della direttiva oserei mi spingerei a dire tutti gli effetti della direttiva sono conseguiti dal concordato preventivo ma ciò che nel concordato preventivo accade è la nomina del commissario giudiziale quando invece la nomina del commissario giudiziale è essenziale dell'articolo 5 è una facoltà. In questo senso l'articolo 5 paragrafo 2 oltre che si inserisce organicamente in una norma che parla di debitore nel controllo sia pure sotto limite della propria impresa prevede che ove occorra la nomina a parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel campo della ristrutturazione e questa nozione è una nomina dell'ausiliario di giustizia è decisa caso per caso eccetto in determinate situazioni in cui gli stati membri possono richiedere sempre la nomina obbligatoria di tale professionista e a senso del paragrafo 3 sono previsti i casi di obbligatorietà del commissario giudiziale fra cui quello della sospensione di azioni esecutive individuali vengo al punto se il concordato preventivo è lo strumento di attuazione della direttiva allora ho il dubbio che l'articolo 5 paragrafo 2 possa non essere attuato direi non solo nella sostanza ma anche nella forma perché in questo caso lo Stato membro l'Italia avrebbe previsto l'obbligatoria nomina del commissario giudiziale anche laddove è chiarissimo nello spirito della direttiva che il debitore deve avere diritto a un quadro di strutturazione preventiva conforme al principio della direttiva con leggerissimo o inesistente intervento giudiziale quindi se così fosse potremmo avere un problema consegno con questo il quesito in mani più sicure senza risolverlo invece qualche certezza in più ritengo di poterla dare rispetto al quarto e al quinto livello di intervento ricordo solo per chi si fosse perso dalla stabilità alla tutela dei finanziamenti il divieto delle azioni esecutive il quarto e il quinto livello sono gli strumenti più aggressivi quelli in cui si va a ritoccare a ridefinire i diritti dei creditori diritti dei creditori che possono essere ridefiniti sia all'interno di una classe che approva la ristrutturazione quindi un caso in cui il creditore inserito in una classe si trova a essere minoranza rispetto a una maggioranza che approva sia invece quello che viene chiamata ristrutturazione trasversale che per noi è fatta dal concordato preventivo in cui non soltanto si può vincolare la minoranza all'interno di una classe ma si possono anche vincolare intere classi quando sussistano altri presupposti che sono quelli appunto che andremo a vedere e che per il concordato preventivo ben conosciamo quindi il primo di questi due livelli di intervento nella carne dei creditori è il cosiddetto vincolo per i creditori licenzianti è evidente che nessuna ristrutturazione può essere affidata soltanto alla regola dell'unanimità e quindi è evidente che l'Unione Europea nel momento a cui ha voluto favorire strumenti di ristrutturazione preventiva ha previsto anche che a certe condizioni i creditori licenzianti possano essere vincolati dalla decisione della maggioranza in presenza di salvaguardia questo vincolo nel nostro ordinamento e mi riferisco all'ordinamento del codice della crisi ormai è previsto da tre strumenti il primo è l'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari articolo 61,5 il secondo è l'accordo di ristrutturazione a efficacia estesa a tutti quanti articolo 61,1 e 4 da 1 a 4 il terzo è quello del concordato preventivo allora se questo è vero riterrei che la non conformità con il sistema della direttiva possa esservi possa esservi per ragioni abbastanza evidenti che sono che nel nostro ordinamento o l'ordinamento che risulterebbe dal codice della crisi la continuità aziendale che è l'obiettivo di tutela della direttiva continuità aziendale conveniente per i creditori ma non assoggettata a ulteriori requisiti verrebbe invece imbrigliata rispetto al vincolo per i creditori essenzienti sia nell'accordo di ristrutturazione efficace estesa perché oltre ad avere l'accordo carattere non liquidatorio il che è l'oggetto stesso della direttiva prevede ulteriormente che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale questa condizione non c'è nella direttiva ma non c'è per buoni motivi non c'è perché mi è già capitato di dirlo e spero di non annoiarvi che non possiamo pensare che un'impresa che ha un'azienda uso azienda un debitore che ha un'azienda che merita di essere salvata debba essere pregiudicato in questo obiettivo dal fatto di avere un ampio patrimonio da liquidare è qualcosa che conosciamo tutti situazioni in cui l'impresa ha un nucleo aziendale produttivo ma ha magari immobili accumulati nel corso degli anni sedi sedi sociali faraoniche che non hanno più nessun senso e che è opportuno non solo che vengano vendute ma che vengano vendute ad alto prezzo allora se si introduce un giudizio di prevalenza fra i ricavati della continuità aziendale e i ricavati della liquidazione si rischia di impedire il salvataggio dell'impresa meritevole di essere salvata proprio perché ha la maledizione di essere ricca di essere ricca di patrimonio allora in questo senso un primo livello di non conformità lo troviamo all'articolo 61 per l'accordo di situazione efficace estesa che è uno degli strumenti con cui si vincono i creditori dissenzienti tale non conformità è forse ancora più clamorosa per quanto riguarda l'articolo 84 l'articolo 84 che come sappiamo prevede il concordato con continuità aziendale e che assoggetta la posizione dell'etichetta di continuità aziendale a una serie di requisiti che sono diversi per la continuità diretta e indiretta ma che in ogni caso fanno capo alla prevalenza dei ricavati dalla liquidazione o a certe condizioni cumulativamente o in alternativa alla presenza del mantenimento dei livelli occupazionali in misura significativa quindi l'articolo 84 chiaramente esclude ma direi volontariamente esclude dalla propria orbita continuità aziendali che non abbiano determinate ulteriori caratteristiche rispetto alla redditività per i creditori né si può dire che il tema è soltanto un tema di etichette perché come scrive Andrea Zorgi in un articolo di prossima pubblicazione esiste nel codice della crisi nascosto ma neanche troppo una continuità aziendale diversa dall'articolo 84 è esemplificata direi dall'articolo 99 che in questo senso prevede che i finanziamenti preducibili autorizzati possono essere concessi autorizzazioni quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale attenzione non dice nei casi previsti nell'articolo 84 quindi sono casi in cui è prevista la continuazione dell'attività aziendale oggettivamente quindi con un approccio di fatti specie simile all'attuale certo 86 bis se c'è continuità aziendale il debitore può chiedere l'autorizzazione al finanziamento preducibile norma simile seppur carente dell'inciso anche se unicamente in funzione della liquidazione è prevista dall'articolo 100 101 è prevista anche dall'articolo 100 quindi che cosa possiamo dire possiamo dire che riassumo il codice della crisi prevede la tutela della continuità aziendale ma la soggetta a due vincoli o alcuni vincoli qualitativi previsti dall'articolo 84 oppure la soglia del 20% quindi non è vietato fare un concordato con continuità aziendale che non rispetti l'articolo 84 quindi un concordato con continuità aziendale in cui si tutela l'impresa si vende tutto il patrimonio ricavando sperabilmente molto più della continuità aziendale e si continua ma quel concordato deve rispettare la soglia del 20% e questo non è conforme alla direttiva non è conforme alla direttiva perché se l'obiettivo è quello di tutelare la continuità aziendale di per sé purché conveniente per i creditori prevedere una soglia del 20% non è appunto corretto non è conforme poi può piacere o non piacere questa non conformità è meno grave o comunque non scontata rispetto al concordato con continuità indiretta perché come abbiamo visto la continuità indiretta è un'opzione per cui così come lo Stato membro potrebbe non prevedere la continuità indiretta può anche sacrificarla nelle maglie estrettissime che sono previste dall'articolo 84 ciò detto mi sembra che non abbia senso una volta che si apre la continuità indiretta si dovrebbe aprire a tutto tondo quindi prevedendo anche l'apertura che prescinde dal mantenimento dei livelli occupazionali e prescinde dai flussi vengo ora al quinto e ultimo strumento che è la cosiddetta ristrutturazione trasversale la ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11 se non vado errato è la ristrutturazione che prevede la possibilità che intere classi siano vincolate ancorché dissenzienti in presenza di certi presupposti per noi mentre per molti ordinamenti che non hanno la ristrutturazione trasversale e si parla di signori ordinamenti come appunto per esempio l'Austria che è un ordinamento molto fine per noi questo non è nuovo ce l'abbiamo dal 2005 la ristrutturazione trasversale però ha rispetto al sistema previsto dal codice della crisi una serie di differenze in realtà vale in generale innanzitutto il controllo di convenienza è consentito sempre l'articolo 112 del codice della crisi prevede appunto in conformità all'attuale articolo 180 che il creditore dissenziente può contestare il difetto di convenienza soltanto quando o appartenga a una classe dissenziente oppure rappresenta il 20% dei creditori ammessi al voto in caso di mancata formazione della classe non così l'articolo 10 paragrafo 2 che viene richiamato anche l'articolo 11 della direttiva il quale prevede che i creditori il giudice debba verificare non si capisce da qua ma c'è un'altra norma che lo dice anzi è subito dopo alla senza della lettera D che nel caso di ci siano creditori dissenzienti il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori quindi dobbiamo abituarci ma credo sia un'abitudine che acquisiremo con una certa leggerezza che il controllo di convenienza è attivabile da qualunque creditori in qualunque contesto chiunque venga vincolato che sia in classe dissenziente in classe assenziente che abbia il 1% il 20% ha diritto al controllo di convenienza così come declinato nella definizione dell'articolo 2 naturalmente ha diritto se lo chiede perché l'ultima parte del paragrafo 2 prevede che il rispetto del primo comma del 3D è esaminato dal giudice solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo l'altro problema più specifico e su cui credo non abbiamo il tempo di intervenire è quello della distribuzione del valore l'assunto di base il problema non l'assunto di base il problema delle ristrutturazioni se di problema si può parlare è che si ipotizza che esista sempre un surplus altrimenti non saremmo arrivati a questo fra liquidazione e ristrutturazione cioè in sostanza si ipotizza che fatto 100 quanto ricavabile dalla liquidazione del patrimonio la ristrutturazione generi 200 quindi il problema di cui molto si discute in Europa un po' meno in Italia è quello di quei 100 come vengano distribuiti in sostanza esiste una libertà del debitore di attribuire il surplus oppure ci sono dei vincoli precisi nel nostro ordinamento in cui direi che c'è una qualche continuità fra il vecchio e il nuovo parlo di qualche che non è completa l'articolo 85 prevede che il scusate che il piano debba l'articolo 85 paragrafo 6 preveda la il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare le cause legittime norma prevista già dall'articolo 160 comma 2 però prevede anche e questo è un punto importante che l'articolo che il concordato possa rispondere anche all'interesse dei soci l'articolo 84 comma 2 infatti prevede che in caso di continuità diretta il piano prevede l'attività di imprese funzionale e assicurare il ripriso dell'equilibrio finanziato dell'interesse prioritario dei creditori oltre che dell'imprenditore e dei soci da queste due norme che sono in parte incompatibili o perlomeno il cui coordinamento non è agevole si deduce che il surplus da ristrutturazione non può essere allocato in termini diversi dalla cascata rigida delle prelazioni in quanto secondo l'interpretazione che io non condivido assolutamente ma che è dominante il surplus da continuità non è assimilabile a finanza esterna e immagino che il legislatore del codice della crisi abbia voluto dare continuità a questo orientamento due tuttavia il surplus da ristrutturazione può essere appropriato in parte dai soci o più semplicemente i soci possono restare nel capitale della società ristrutturata in quanto il concordato è anche nel loro interesse quindi abbiamo uno strano irco cervo in cui abbiamo una regola della priorità assoluta fra creditori ma i soci che dovrebbero essere gli ultimi della cascata possono restare nel capitale allora su questo la direttiva potrà dare indicazioni abbastanza più chiare perché prevede quella che viene chiamata regola della priorità relativa cioè prevede che gli stati membri possano prevedere l'allocazione del surplus secondo due criteri il primo è che nessuno possa essere trattato peggio di come sarebbe trattato con la liquidazione due che la classe licenziente non possa ricevere meno di quanto ricevono le altre classi con posizione analoga che è questa è una regola espressa con qualche devo dire complessità dall'articolo 11 lettera B secondo secondo romanino e lettera C perché assicura che il piano è omologabile assicura che le classi di voto licenziati e creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quella delle altre classi e lo stesso rango è più favorevole di quelle delle classi inferiori poi un'altra norma che è l'articolo 12 prevede un complesso ma sostanzialmente conforme a questi obiettivi trattamento dei soci punti specifici di non conformità il primo direi è quello dei creditori prelatizi l'articolo 86 prevede una norma che è pensata direi soltanto per il concordato in continuità quello con il bollino di qualità dell'articolo 84 quindi non la continuità oltre le etichette la continuità proprio con l'etichetta dell'articolo 84 che quindi non soltanto prevede una limitazione oggettiva delle procedure in cui può essere applicato che è appunto la moratoria ma prevede un ulteriore doppio problema uno una limitazione del diritto di voto alla sola differenza fra il credito maggiorato degli interessi e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano di concordato due una durata della moratoria limitata a due anni questi sono due principi che almeno da quanto emerge dal dibattito e dalla direttiva non sono previsti alla direttiva non sono conformi i creditori votano tutti per l'intero poi sarà un tema di controllo di convenienza se il creditore prelatizio che ha votato contro e ha fatto saltare una una ristrutturazione favorevole per gli altri possa essere appunto superato nel suo dissenso ma non con una quantomeno discutibile limitazione del peso del suo voto il secondo tema è quello della durata limitata a due anni in realtà c'è un consenso generalizzato in Europa che è un tema di piano cioè se il piano lo prevede di nuovo il creditore non può subire una dilazione che lo pregiudichi oltre il quanto possibile perché appunto ricordiamo che per ciascun creditore individualmente il trattamento deve superare la verifica del miglior soddisfacimento dei creditori a questo punto concludo avendo parlato anche troppo molte molte cose vanno credo dovrebbero essere rimeditate innanzitutto abbiamo visto l'ambito oggettivo deve essere ampliato il concordato minore che non prevede la possibilità della ristrutturazione trasversale non è conforme alla direttiva non credo che possa essere mantenuta la valutazione di fattibilità economica addirittura in limine come è previsto dal codice della crisi può essere previsto soltanto un diritto un potere del giudice di fermare tentativi di ristrutturazione che portino a omologare piani manifestamente non fattibili come sappiamo fra la positiva verifica di fattibilità e l'assenza e la positiva verifica della non fattibilità c'è tutta un'area grigia che secondo il sistema italiano non supererebbe il test e secondo il sistema europeo invece avrebbe la chance di andare avanti che sia un bene o un male è questione che qui non vorrei affrontare dovrebbe essere prevista anche l'eccezione di inadempimento ne parlava appunto la dottoressa Brogi credo sia un errore questo è un punto però qui mi rivolgo a chi ne sa più di me anche rispetto alla genesi l'articolo 90 scusate quello sulla continuità contrattuale l'articolo 95 l'articolo 95 prevede la continuità dei contratti appunto per le sole pubbliche amministrazioni naturalmente io non posso sbagliare ma non ho trovato una norma simile per i contratti di tipo privato invece la direttiva prevede che ci sia un'impossibilità di risolvere ma se non l'ho vista mi assumo la responsabilità perché anche non c'è ecco ecco allora non sono solo io non l'ho vista l'ho cercata il problema che avevo posto era come il legislatore doveva declinare questa norma in virtù del carattere generale della sua previsione e quindi se estenderlo a tutte le ipotesi di procedura solamente quelle in cui c'era uno stato di crisi e non di insolvenza quello che mettevo in evidenza erano gli effetti molto forti di questa previsione che costringe appunto le controparti dell'imprenditore a continuare nell'eseruzione dei loro contratti va bene per favorire la continuità aziendale però la direttiva si colloca in un contesto di anticipazione della crisi approfitto di questa interruzione professore per tranquillizzarla perché in Toscana centrale che ho già trovato Prato Firenze e anche Perugia il 4 giugno li leggo in materia di nuova finanza decreto scritto dalla collega Umberto Rana di prossima pubblicazione anche nel nostro sito dice questo la proposta prevede la destinazione al soddisfacimento dei creditori anche del surplus di provenienza endogena derivante dai flussi di cassa della prosecuzione dell'attività d'impresa da considerarsi rientrate nel concetto di finanza terza dinamica al pari dell'apporto esogeno di finanza proveniente da un terzo soggetto come già sostenuto da quest'ufficio con il decreto di omologazione gli utili prodotti della continuità sono qualificabili come nuova finanza dinamica non soggetta al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione 4 giugno 2019 mi scuso no 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 invece poi le spiegherò perché ne sono grato il portere appello di Venezia si pronuncerà l'udienza è il 20 di giugno proprio su questo tema sul tema se sia soggetto o no al divieto di alterazione della causa di interpellazione cosa ritenuta impossibile da parte del tribunale di Padova quindi mi è molto utile quello che le stava dicendo altri punti sono relativi all'esclusività del debitore davvero sto concludendo l'assetto di interessi previsto dalla direttiva è molto complicato in relazione al ruolo del debitore cioè la soluzione di default quella che gli stati membri non possono attuare è prevedere la esclusività del debitore sia nell'accesso alla procedura sia nella formulazione del piano sia infine nella richiesta di omologazione di un piano che comporti la ristrutturazione trasversale tuttavia l'articolo 4,8 prevede una significativa eccezione su cui varrebbe la pena di riflettere non sto raccomandando un'attuazione in questo senso ma quantomeno sto raccomandando una consapevole scelta sul fatto che è prevista questa possibilità gli stati membri possono prevedere che il quadro di ristrutturazione preventiva previsto dalla ristrutturazione sia disponibile su richiesta dei creditori e dei rappresentanti lavoratori previo accordo del debitore tuttavia gli stati membri possono limitare il requisito per ottenere un accordo del debitore ai casi in cui il debitore è una PMI conclusione un'impresa grande e su cosa sia grande lo ricordava la dottoressa Broghi la direttiva non si pronuncia lo stato membro può prevedere che il concordato possa essere attivato da un terzo se sia cosa bene buona o no non lo so vado l'articolo 9 paragrafo 1 prevede la possibilità di presentare un piano concorrente ma non per le piccole prevede un piano concorrente ma non può prevedere per i debitori che siano piccole e medie imprese la possibilità di chiedere l'omologazione conclusioni credo che si possa dire che il codice della crisi e dell'insolvenza ha molti aspetti positivi questo è un fatto ormai acclarato fra cui e qui esprimo un'opinione personalissima l'allerta io non mi sono associato all'agridia del dolore di chi ha visto nell'allerta un fatto intrinsecamente grave anche perché ritengo importantissimo pagare le imposte e ritengo che sia importante dare un segno di discontinuità rispetto alla prassi indifendibile di pagare di finanziarsi non pagando le imposte se il codice della crisi si espone a critiche sotto questo aspetto è perché l'allerta non si ricollega a un sistema amichevole ma si ricollega a un sistema tendenzialmente aggressivo cioè l'allerta spinge ma è un po' come i carabinieri che sparavano nelle trincee perché i soldati andassero contro le mitagliatrici tedesche questo ovviamente so di usare un'espressione assolutamente esagerata ma se vogliamo prendere un centesimo a mio avviso l'allerta ha un po' questo problema cioè sarebbe bene che venissero spinti i debitori ma verso un sistema più amico di com'è senz'altro il controllo giudiziario è un leitmotiv del codice della crisi e dell'insolvenza non soltanto quando c'è direttamente ma anche quando è immanente attraverso le relazioni del commissario giudiziale e i possibili scivoli in questo percorso della crisi altro punto è quello che non mi sembra che sia stato ascoltato minimamente il bisogno dell'istrutturazione che possono avere le piccole e medie imprese non ci dobbiamo fare illusioni le piccole e medie imprese sono quasi sempre da liquidare ma non sono sempre da liquidare sono quasi sempre da liquidare per un problema appunto di mancanza di organizzazione di impossibilità di separare l'organizzazione dalle persone e perché quando un debitore è in crisi spesso ci sono ragioni perché lo sia i costi professionali sono alti la ricerca empirica di cui ringrazio la dottoressa governatore di aver fatto menzione mostra che la dimensione media delle imprese che accedono al concordato preventivo è 16 volte quella delle imprese che falliscono la dimensione media delle imprese che accedono all'accordo di ristrutturazione è 36 volte quella delle imprese che falliscono il che significa che non possiamo immaginare un accordo di ristrutturazione aperto a tutti l'accordo di ristrutturazione avrà sempre bisogno di tecnicalità professionalità e costi certo il codice della crisi non lo aiuta basta andare a vedere l'articolo 39 e il set documentale che deve essere predisposto per accedere all'accordo di ristrutturazione si capisce che da quella mensa i debitori piccoli sono fuori devono stare fuori staranno fuori allora l'attuazione della direttiva può avere due chiavi diverse la prima chiave è quella di un di un ritocco una ristrutturazione potremmo dire una manutenzione straordinaria con alcuni interventi di risanamento conservativo che sono diretti a tagliuzzare qualche qua e là aggiungere pezzetti per portare un edificio pensato secondo un progetto diverso all'interno della direttiva il secondo modello è più è ovviamente più ambizioso perché sarebbe quello di ripensare il sistema ripensare un sistema attorno al valore dell'autonomia privata valore dell'autonomia privata su cui sappiamo aveva molto investito la riforma del 2005 e che non ha dato buona prova di sé forse poteva essere il caso di dare una seconda chance di prevedere dei paletti dopo questo apprendimento lungo 14 anni e vedere se all'interno di criteri che ormai non sono più sconosciuti come erano nel 2005 potesse essere fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato provisto nel codice della crisi grazie io ringrazio il professor Stanghelini per questa ricchissima relazione estremamente stimolante io forse l'unica perplessità che ho però con molte riserve in realtà una perplessità così molto dialogica e aperta è quella su se davvero vi sia contrasto tra la continuità della direttiva e la continuità dell'articolo 34 certamente le norme del codice della crisi a riguardo sono rigide e questo è un punto di frizione sicuro però è anche vero che il presupposto della direttiva è che le imprese che arrivano alla continuità siano sane cioè non abbiano l'impossibilità di risanarsi e allora a quel punto no? E per cui a quel punto forse le previsioni del nostro codice sono compatibili perché un'impresa che arriva comunque in uno stadio precoce comunque sano cioè ha davvero una continuità è anche capace in un qualche modo di strutturare un piano che soddisfi i creditori o le altre esigenze dell'articolo 84 nei termini in cui il nostro codice lo prevede è un'impresa